La prima immagine del film western di Quentin Tarantino, Hateful Eight, è stata finalmente rilasciata. Il magazine americano Entertainment Weekly ha infatti svelato in copertina la prima foto della pellicola. Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh e Kurt Russell appaiono in costume come tre degli otto protagonisti dell'atteso lavoro del regista americano, noto per aver diretto capolavori come Pulp Fiction, Le Iene o Jungle Unchained. Samuel L. Jackson nella trama di Hateful Eight è un soldato diventato cacciatore di taglie, mentre Russell è uno sceriffo impegnato a ritrovare criminali in fuga nel Far West. Hateful Eight è ambientato pochi anni dopo la guerra civile americana, che avvene tra il 1861 e il 1865. La trama segue le avventure di alcuni cacciatori di taglie che per ripararsi da una tempesta si troveranno a che fare con molti personaggi curiosi in pieno stile tarantino. Da sempre il regista di origini italiane si è detto un gran fan degli spaghetti western e dei b-movie prodotti in Italia negli anni 70 e infatti Hateful Eight è l'ennesimo omaggio ai film di Sergio Leone di cui Tarantino è un grande fan.